Ciao Simo, come stai? Da un momento particolare di emergenza, quattro mesi fermi, campionato bloccato, sospeso, concluso, come pensi si possa riprendere già a partire dalla preparazione? Innanzitutto speriamo si possa riprendere il prima possibile, sarà un po' tutto particolare rispetto a tutti gli altri anni passati perché bisognerà sicuramente riprendere prima, riprendere con i dovuti tempi per non rischiare infortuni, ricadute e niente. Poi con i giusti tempi arrivare pronti sperando che si possa iniziare il prima possibile tra settembre, speriamo. Speriamo davvero. Che obiettivi ti poni per questa stagione? Arrivando da un anno fermo, quello che ho in testa adesso è stare bene, cercare di stare bene fisicamente, in primis io personalmente. E poi una volta ritrovata la forma spero il prima possibile cercare di giocarmela per aiutare la squadra a fare il meglio possibile, stare là davanti ovviamente. Che è l'obiettivo chiaramente della società. Va bene, niente Simo, grazie di tutto, bentornato soprattutto tra noi, incrociamo le dita, speriamo chiaramente di poter riprendere. Speriamo, vada tutto bene dai. Esattamente.